cari figli oggi vi invito a rinascere nella preghiera e a diventare con mio figlio attraverso lo spirito santo un nuovo popolo un popolo che sa che se perde dio ha perso se stesso un popolo che sa che nonostante tutte le sofferenze e le prove con dio è sicuro e salvo vi invito a radunarvi nella famiglia di dio e da rafforzarvi con la forza del padre come singoli figli miei non potete fermare il male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo ma per mezzo della volontà di dio tutti insieme con mio figlio potete cambiare tutto e guarire il mondo vi invito a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori perché mio figlio li ha scelti vi ringrazio grazie a tutti